Ben ritrovati, nella puntata di oggi vi voglio far conoscere alcune soluzioni immobiliari intorno a Vercelli, esattamente nei paesi di Stropiana, Desana, Greggio e Borgo Vercelli. Andiamo a vederli insieme. A Borgo Vercelli una villa di ampia metratura con terreno di circa 800 metri quadri che circonda tutta la villa indipendente su quattro lati, villa del 1960 anno di costruzione in classe G, prezzo molto interessante. A Desana si vende una villa di recente costruzione disposta su due piani con cortile e giardino circostante, garage doppio e un'ottima soluzione per famiglia. A Greggio c'è una proprietà composta da 1200 metri quadri di terreno con due abitazioni rurali completamente da ristrutturale, prezzo molto interessante, 60.000 euro la richiesta. A Stropiana ho una soluzione di casa indipendente completamente ristrutturata, collocata in una proprietà di circa 1800 metri quadrati, disposta su due piani, molto interessante, bella e ben ristrutturata e la qualità e il prezzo sono ottimi. Anche per oggi abbiamo finito, vi aspetto la prossima settimana con tante novità, non dimenticatevi di seguirmi sul mio sito e sulla mia pagina di Facebook. Ciao a tutti!